Sono veramente molto contento di dare il benvenuto a Morena Pedriali Errani in collegamento con noi. Ciao Morena, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. È un piacere enorme perché, come dire, facciamo i conti stamattina con una storia che, insomma, mi permetterai già in apertura, una storia che tendenzialmente, insomma, tendiamo a mettere da parte, a far finta che non ci sia stata, che non sia esistita, ma in realtà, come dire, il tuo romanzo è intanto esibisco la copertina di prima che chiudiate gli occhi di Morena Pedriali Errani, uscito per Giulio Perrone, editore, il 27 ottobre 2023. Questa è una storia che vogliamo invece raccontare qui a questi microfoni perché a RBS, sia sul canale 87 di Digitale Terrestre, ma sulle frequenze FM, DAB, in streaming, per chi ci conosce, insomma, sono storie che raccontiamo tutti i giorni perché, come dire, lo spazio dedicato, come dire, alle discriminazioni ma anche alla rivendicazione di diritti, insomma, è uno spazio che noi ogni giorno proviamo ad allargare, un orizzonte che ci interessa e che proviamo a percorrere. Allora, questo è un romanzo che in realtà, in premessa, è un romanzo che è stato anche presentato, diciamo, al Premio Strega nell'ultima edizione e, insomma, che rende ancora ulteriormente grande, come dire, la storia che andiamo a raccontare stamattina, ma che racconta, come dire, una comunità, e tu mi correggerai, insomma, rispetto a tutte le gaf che potrò commettere stamattina rispetto al racconto del tuo libro, una comunità che ha aiutato questo Paese, diciamo, anche a uscire dalla dittatura nazifascista, ma che invece è una comunità che si continua a dimenticare, a far finta che non esista. Vogliamo, insomma, intanto per i nostri spettatori e i nostri ascoltatori, come dire, costruire un po' il perimetro, diciamo, di questa storia, di questa meravigliosa storia dal mio punto di vista. Morena. Certo, dunque, in realtà la comunità romessinta in Italia ha una storia molto particolare e molto legata a quella che è anche la storia del Paese esterno, se così possiamo dire. Rome e Sinti, attraverso la loro storia, lo sviluppo delle loro arti, hanno fortemente contribuito allo sviluppo della storia totale, della storia di tutti. Nonostante questo, appunto, come dicevi anche tu poco prima, non siamo ancora riconosciuti in quanto minoranza etnica in Italia, non è riconosciuto il nostro genocidio. Una cosa che è molto interessante, se pensiamo che il nostro genocidio in realtà è partito proprio da qua, cioè non è che l'Italia ha preso, diciamo così, spunto dalla Germania e l'ha riprodotto qua. No, è stato il contrario. L'Italia è stata proprio la prima autrice. I primi campi di concentramento sono stati aperti proprio per le famiglie Rome e Sinti da rinchiudere. Nel libro, appunto, per chi lo leggerà, marketing molesto, per chi lo leggerà, sono inserite anche dei documenti storici reali che parlano appunto di questo internamento. E nonostante questo, però, Rome e Sinti sono stati parte della Resistenza. E io penso che sia anche un sacrificio che andrebbe celebrato doppiamente, perché parliamo di persone che sono state prima perseguitate, rinchiusi in campi di concentramento, usate per esperimenti, serializzate forzatamente e nonostante questo hanno deciso, una volta che sono riusciti a scappare da questi campi, di unirsi alla lotta di liberazione, quindi di credere in quello stesso paese che non credeva in loro, ecco, proprio per costruirne uno in cui non sarebbero più stati stranieri, che purtroppo ancora oggi non esiste. Però magari ne parleremo meglio nel corso dell'intervista, non voglio spendere troppo spazio. Tra l'altro tu stessa hai parlato di resistenza, però in realtà tu in molte interviste ribadisci un concetto che io ritengo essere anche centrale, perché tu dici che noi siamo un popolo resistente sin dall'arrivo nel 1422 in Italia, sono andato un po' a studiare le origini, ma anche attraverso le parole che non fanno sconti a nessuno, che tu restituisci ogni volta che ti viene fatta qualche sollecitazione anche rispetto a questa storia. E nonostante questo, un popolo resistente che insomma si è sempre fatto finta che non esistesse, c'è questo rifiuto, e io credo che anche questa sia centrale, rifiuto dell'etichetta di vittime, diciamo, rispetto alla vostra essenza, perché non è soltanto così. Parliamo di una fortissima, ingiustificabile, dolorosissima discriminazione che è ancora in atto, ma in realtà questa rivendicazione di non vittimismo credo sia importantissima e che vi rende in maniera ancora più, diciamo, forti e orgogliosamente, diciamo, appartenenti alla vostra identità. Forse, insomma, ho esagerato, no? No, assolutamente. Anzi, è molto particolare questo concetto per noi, perché in realtà è una resistenza che parte molto spesso, se non quasi sempre, dalle donne romessinte, no? Cioè che quando si vuole andare un po' a screditare le comunità romessinte, a instare discorsi antitiganisti, una delle prime cose che viene detta è che le donne romessinte sono tutte sottomesse, che è un qualcosa di quanto più sbagliato si possa immaginare, perché in realtà, se è vero che noi nel corso dei secoli abbiamo vissuto delle persecuzioni del vero e proprio genocidio, anche culturale, nel corso appunto dei secoli, è anche vero che tutte le rivolte che sono state fatte, e sono state fatte anche se non vengono raccontate, ed è per questo poi che passiamo per il ruolo di vittime, perché non c'è mai stata una controparte a raccontare invece quello che noi facevamo per resistere, sono tutte appunto resistenze rivolte che partono proprio dalle donne. Un esempio tra tutti è l'abolizione della schiavitù Roma in Romania, che ricordo appunto in Romania è stata attiva la schiavitù nei confronti dei Roma, durata 500 anni attestati, ma noi sappiamo dai documenti che probabilmente fosse attiva da più tempo, quindi parliamo circa di 6-700 anni, che è finita proprio grazie ad una donna Roma nata schiava che è riuscita a portare alla Corte Suprema della Romania l'istanza appunto di abolizione della schiavitù, così come pensiamo ad esempio anche alla resistenza partigiana nel nostro paese. Le più grandi appunto partigiane, le figure che hanno iniziato questa lotta sono tutte donne sinte. E quindi appunto è una resistenza molto particolare, molto fiera anche perché passa appunto per, possiamo dire, per mano femminile. E' vero che noi rifiutiamo in ogni modo, in modo anche molto permaloso, così molto orgoglioso, di essere etichettati come vittime, perché il rischio di essere etichettati come vittime è appunto quello di ingabbiarsi appunto in questa etichetta e di non riuscire più ad uscirne. Cioè noi non viviamo nelle condizioni in cui viviamo causa nostra, siamo stati costretti a vivere in queste condizioni, ma la responsabilità del nostro cambiamento, della nostra rivoluzione parte soprattutto da noi. Quindi appunto noi vogliamo poter dire fieramente di essere romessinti perché è un qualcosa che ci portiamo nel sangue, che siamo riusciti a far sopravvivere se pensiamo per mille anni, nonostante tutto quello che c'è stato intorno. Per concludere pensiamo ad esempio alla lingua romanì, che è una lingua derivata dal sanscrito e che ancora oggi parlata, parlata come si parlava 200-300 anni fa, quindi un qualcosa che è sopravvissuto così come era proprio perché è stato protetto dalla comunità, da questo senso appunto di resistenza. Resistenza e fierezza che attraversano tutte le 220 pagine di Prima che chiudiate gli occhi e che ha il suo focus nel periodo diciamo di affermazione della dittatura nazifascista e che racconta in realtà sin a partire dalla dedica che ha una voce, una voce fortissima identificabile dentro il suo coraggio se vogliamo, che è quella di Fiammetta Pedriali luce nell'abisso e sangue nelle mie arterie, tu scrivi anche nella dedica e tua nonna e insomma e questo muove diciamo il motore che muove tutto il racconto insomma che attraversa la storia con la S maiuscola incastrata all'interno della quale si incastrano le storie diciamo della comunità, delle carovane, delle campine, c'è un racconto molto vivido, molto appassionante e appassionato vorrei dire anche degli ambienti che tu racconti dentro il tuo romanzo che giungono poi fino anche alla deportazione ovviamente io non voglio raccontare molto di più perché questa è una storia che va letta e che va vissuta all'interno della quale si incastrano poi anche delle fiabe che vengono diciamo anche dalla tradizione Sinti e Rom, insomma la dedica Fiammetta Pedriali che è la voce di questo romanzo è una dedica diciamo che brucia proprio come il nome di battaglia se vogliamo anche dentro la resistenza di Fiamma Pedriali Sì, allora diciamo che il libro in realtà racchiude diverse figure femminili quindi non soltanto la nonna Fiammetta che però ovviamente è l'ispirazione principale come ormai penso sappiano anche i muri e l'ho scritto detto dappertutto quindi spero appunto che da lassù sia fiera che sorrida però appunto il personaggio principale volevo che fosse una pluralità diciamo di voci femminili della comunità Sinta partendo dalla mia famiglia ma di qualsiasi altra comunità Sinta perché più o meno le storie delle famiglie Sinta del periodo sono purtroppo tutte uguali no? Ad esempio Iesebeda era invece quest'altra mia zia circense che è stata uccisa il giorno del suo ventitresimo compleanno durante diciamo un'imboscata possiamo chiamarla così e quindi appunto ci tenevo tantissimo che partendo proprio dai nomi che secondo me sono provvidenziali quasi perché mia nonna davvero si chiamava Fiammetta anche all'anagrafe partendo dai loro nomi che già parlavano raccontare la loro storia ma raccontarla come se fossero loro in prima persona quindi con pregi e difetti possiamo dire con luci e ombre cioè senza santificarle né demonizzarle un po' come voleva fare se mi permettete il paragone Calvino scrivendo dei suoi primi partigiani nel sentiero dei nidi di ragno no? e perché pensavo che fosse il metodo il modo più efficace per ridornare umanità a queste persone e di conseguenza attraverso questa umanità di far comprendere a chi leggeva la straordinarietà di quello che invece hanno fatto queste persone e quindi sì poi ovviamente troverete dediche a mia nonna dappertutto nel libro e anche però è doveroso dire anche a mio padre Moreno che sta ancora piangendo dall'inizio della... stavo pensando proprio a tuo padre insomma mentre insomma parlavi di dediche e ringraziamenti stavo per dirti insomma c'è la parte dei ringraziamenti che molto spesso ha un suo ruolo forte dentro i romanzi insomma le parole che tu dedichi a tuo padre mendicante re custode della storia è meraviglioso insomma puoi dedicare tutto lo spazio che vuoi insomma a questo tipo di ringraziamento specifico allora inizio dicendo che mio padre è molto offeso per il fatto che il libro non parlasse principalmente di lui quindi rendiamo scusa pubblicamente a parte gli scherzi si diciamo che mio padre che appunto poi è l'ispirazione principale per la figura del padre della protagonista è stato per me un po' quella figura che nella volontà di proteggermi è riuscito comunque a portare avanti questa resistenza cioè nel senso ad esempio una cosa che mi diceva quando quando era bambina era che noi all'esterno non potevamo dire di essere sinti proprio per paura del pregiudizio perché in italia ancora oggi essere riconosciuti in quanto romo sinti comporta anche un rischio per la vita per il lavoro proprio per la qualità della vita no e quindi mi diceva di non dirlo all'esterno ma al tempo stesso non dimenticarlo e faceva questa cosa che allora a me sembrava un gioco così fine a se stesso per cui mio padre è anche musicista perché poi al circo la maggior parte di noi accompagna gli spettacoli anche musicalmente e cosa faceva? Si metteva a suonare queste canzoni nella nostra lingua sulla chitarra o sul violino e io dovevo cantarle dovevo accompagnarle con la voce no? E allora no sembrava un gioco e invece oggi mi rendo conto di quanto fosse forte questa testimonianza di resistenza che anche nella paura che di potermi perdere di poter far vivere a me quello che aveva vissuto lui tramandandomi questa cultura comunque la fierezza appunto di cui parlavamo la volontà di tramandarla è sempre stata più forte quindi penso che sia anche il motivo per cui è resistita fino adesso proprio grazie al sacrificio di padri e madri come miei ecco Morena c'è un elemento quello della fiaba dicevamo poco fa c'è una cadenza che è quella dei racconti delle fiabe dentro la storia principale diciamo di prima che chiudiate gli occhi che rende anche onore vorrei aggiungere alla tradizione orale diciamo della comunità Sinti e Rom in realtà però una domanda che voglio farti e che vedo insomma che in realtà ti hanno fatto in tanti è quello rispetto all'elemento della scrittura perché come dire è come se tu avessi voluto ma questo insomma lo dico soltanto insomma dalla parte di uno di un lettore diciamo di questa storia come se avessi voluto come dire una volta per tutte cristallizzare una storia diciamo e le storie i racconti della comunità Sinti e Rom con la parola scritta insomma è stato complicato come dire rendere come dire parola su carta questa tradizione orale fortissima e di grande dignità è stato molto complicato anche perché io vengo da un mondo che è quello del circo in cui si fa arte ma è un altro tipo di arte c'è un'arte che non ha parole possiamo dire se voi andate ad uno spettacolo del circo sono veramente pochi numeri in cui effettivamente l'artista parla con il pubblico c'è molto spesso anche nei numeri di clown che sono quelli in cui in genere si parla non è così scontato invece che ci sia questo dialogo no e quindi è stato è stata un po la sfida del libro il io dicevo volerlo rendere sinto cioè io volevo che questo libro fosse un estratto di una mente sinta cioè che fosse pensato proprio per essere sinto no in modo che un sinto o una sinta mia che io tani leggendolo si potesse sentire per la prima volta rappresentato invece una persona dall'esterno diciamo incuriosirsi no voler voler approfondire anche le parti che magari non capiva erano scure infatti una cosa che mi è stata detto spesso è che c'erano delle parti che erano un po critiche no che non si capiva bene cosa cosa volessi dire e quindi appunto è stata una cosa che ho cercato di creare apposta e questa cosa diciamo l'ho un po intensificata nel momento come dicevi tu di di descrivere di scrivere le favole che fanno da intermezzo diciamo ai vari capitoli danno un po respiro tra un argomento e l'altro proprio perché ho pensato che queste sono le favole che ci vengono raccontate fin da bambini per costituire la nostra identità sinta no e quindi sarebbe stato bello inserire questa questa identità che passa proprio anche dalle nostre generazioni no perché in genere le le favole si raccontano intorno al fuoco come si immagina tradizionalmente no intorno al fuoco da nonna in nipote no quindi ricreare quell'ambiente per poter far entrare persone esterne in quel mondo lì che secondo me era proprio il cuore pulsante dell'identità sinta no e appunto mi è stato detto che a volte dei passaggi non sono così chiari sono un po enigmatici così però devo dire la verità forse anche con un po di arroganza che in realtà a me piace che sia così perché la cultura sinta è così è un po un po misteriosa anche per noi e niente quindi spero appunto di aver reso a mio modo questa oralità attraverso il libro e deve essere così insomma io invece l'ho trovato come dire anche di una limpidezza disarmante insomma questo sarà perché davvero io ho fatto una bellissima esperienza leggendo questo questo libro per cui insomma questi luoghi di come dire anche di ombre di oscurità credo che siano evidentemente funzionali come dire anche al racconto perché poi per approfondire come dire una cultura un popolo bisogna andare ulteriormente a studiare diciamo per cui insomma magari questo è più che altro uno spunto e un invito anche ad approfondire diciamo tutta una serie di elementi così come è importante ma insomma il tempo corre l'elemento della violenza perché c'è un rigetto fortissimo da parte della della comunità sinti della violenza però evidentemente nella fase della resistenza si richiede è necessario quasi un momento di confronto ma anche di scontro con l'elemento della violenza che insomma incrocia anche la vita di fiammetta no l'elemento della violenza è uno dei punti centrali anche di questa di questa storia nella sua interezza no morena sì diciamo che appunto un argomento molto particolare la violenza all'interno della resistenza romesinta perché se non era possibile al tempo evitarla proprio per ragioni di sopravvivenza è anche vero che la maggior parte delle persone romesinte arrivate alla resistenza cioè che hanno scelto di partecipare alla lotta armata in realtà quando possibile decidono di non combattere e quindi di specializzarsi in altre in altre azioni no ad esempio disarmo sabotaggio penso ad esempio i leoni di breda sorini no perché appunto proprio culturalmente c'è questo rifiuto di versare sangue di far del male ad un'altra persona no ed è singolare secondo me notare come questa questa credenza questo anche attaccamento alla propria cultura sia rimasto nonostante tutto quello che stava succedendo intorno è come un po un'umanità che sopravvive nonostante l'inferno tutto intorno ed è una cosa che mi rende molto fiera dell'essere sinta perché è proprio una cosa nostra della nostra cultura ancora oggi mi è capitato appunto di parlare con erasmo pevarello che è l'unica sinta staffetta partigiana sinta ancora in vita ha compiuto da poco 97 anni direi qualche settimana fa e lei appunto è stato commovente sentirla raccontare perché riportava queste esatte cose no cioè il rifiuto della violenza quando la violenza non non minaccia te o la tua famiglia ecco e quindi quindi si credo che sia una resistenza che andrebbe sicuramente studiata e sicuramente bisognerebbe iniziare ad includerla anche negli eventi e nei discorsi appunto che si fanno riguardo la resistenza perché posso dire con una punta d'arroganza forse c'è tanto da imparare anche da questi partigiani per questa storia serve silenzio il silenzio più puro e tagliente di cui siate capaci e la gioia la gioia delle cose perse dei salti a piedi nudi dentro le pozzanghere di un vento che soffia dietro le orecchie a san lorenzo serve chiudere gli occhi tornare al grembo della notte al primo vagito del nostro primo nato è una storia vecchia come vecchio il mondo perciò la raccontiamo insieme spalla contro spalla intorno al fuoco un pezzo alla volta una pagina a testa dentro questo meraviglioso prima che chiudate gli occhi di morena pedriali errani che è stata nostra ospite stamattina morena spero sia stato un buon tempo anche per te grazie per essere stato dal meno due pagine al giorno buon lavoro buona giornata grazie a voi buona giornata